Il 17 novembre a Milano, negli spazi Copernico, è stata presentata l'edizione 2017 del report Reti e aggregazioni immobiliari, curato da Gerardo Paterna. Sono intervenuti alla tavola rotonda Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti, Roberto Barbato, presidente di Frim MLS Replat e Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Numero in crescita per il franchising italiano e nuovi scenari nell'ambito della collaborazione tra agenti immobiliari. Per i prossimi eventi rimani sintonizzato su ReTV.